Il Consiglio regionale ha approvato con il voto favorevole di quasi tutti i consigliari Una legge per favorire la circolazione dei crediti fiscali E in qualche modo dunque alleggerire lo stop al super bonus nell'edilizia Vedremo i dettagli, ascolteremo i commenti C'è anche una legge per il soccorso alpino e speleologico in Toscana Lo valorizza, stabilizza un rapporto che comunque era ormai consolidato e molto efficace E la legge l'hanno approvata proprio tutti C'è stato il voto unanime anche sulla nuova legge per le piscine ad uso natatorio Che in pratica potranno ora essere svuotate ogni tre anni È una misura di salvaguardia della risorsa irrica Dicono i promotori e non compromette affatto la sicurezza e l'igiene L'attenzione ai giovani da parte dell'Assemblea si manifesta anche in tante iniziative Che li coinvolgono direttamente come quella di venerdì al teatro della Compagnia di Firenze La Toscana raccontata dalla Generazione Z Sono anche molti i giovani sul treno per Torino in occasione del Salone del Libro Una iniziativa a cui ha dato un contributo In particolare la Commissione Cultura del Consiglio regionale Di Europa si parla molto perché ormai manca meno di un mese alle elezioni del Parlamento europeo E perché proprio in questi giorni è la festa dell'Europa Tanto che il 9 maggio Palazzo del Pegaso si è illuminato di blu Lo vediamo Anche oggi a 4 settimane dalle elezioni non indichiamo i nomi dei gruppi politici Ma garantiamo, come del resto facciamo sempre, la parità di condizioni tra maggioranza e opposizioni Comunque la si pensa il superbonus edilizio ha rappresentato una novità enorme E ha consentito una vasta opera di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili Anche dal punto di vista energetico Ma ha lasciato, dopo lo stop che è stato deciso, molte questioni aperte A cui il Consiglio regionale in parte cerca di rimediare Approvando una legge che consente alle partecipate di acquistare i crediti fiscali dalle banche Anche i crediti che derivano dal superbonus Il finanziamento è di 5 milioni l'anno Valentina Mercanti è stata la prima firmataria della proposta di legge che arrivava dalla maggioranza È una risposta, seppur ci rendiamo conto parziale, consentitemi a una non risposta del governo Ci sono tante aziende in difficoltà, tante imprese Quella del superbonus è stata davvero un pasticcio tutto italiano Io mi auguro che in futuro, perché le politiche degli incentivi non potranno assolutamente terminare col superbonus C'è bisogno di efficientare il nostro patrimonio immobiliare C'è bisogno di contrastare il cambiamento climatico Ma non possono essere i cittadini a farlo Quindi abbiamo bisogno degli incentivi Ma incentivi inquadrati in un progetto industriale con una visione chiara di sviluppo E soprattutto non di continui cambi di normative Su cui poi i cittadini si trovano a pagare e si trovano in difficoltà Questo è quello che abbiamo provato a fare oggi Sono molto orgogliosa che lo abbiamo fatto tutti insieme Anche al di là delle differenze politiche Perché quando i cittadini hanno bisogno la politica tutta ci deve essere Non c'è stato nessun voto contrario E gran parte dell'opposizione ha condiviso il percorso Che ha portato alla sintesi tra distinte proposte iniziali È stato fatto un lavoro condiviso su una proposta di legge Che finalmente consente anche alla regione toscana Attraverso le sue società partecipate, non tutte Di poter interloquire con il sistema bancario toscano E quindi farsi parte attiva nell'acquisto dei crediti derivanti dal superbonus È stata una partita che si è giocata con estrema attenzione Con estremo equilibrio Tutto questo perché vi era la necessità condivisa Direi a questo punto lo possiamo certificare Di dare una risposta al settore Quello diciamo dell'edilizia Che davvero si è trovato in estrema difficoltà Di fronte a un provvedimento Che è quello comunque di intervenire su una misura Che ha avuto effetti positivi Da una parte sulla crescita del paese Ma dall'altro ha determinato uno squilibrio sui conti pubblici Estremamente importante È chiaro che l'intervento a tutto fondo del governo In qualche maniera ha cercato di puntare al contenimento della spesa pubblica Però io credo che fosse importante oggi Che l'ente regionale desse una sua risposta Una misura che fondamentalmente è stata una grande occasione per l'Italia Per rivalutare e riamodernare il patrimonio edilizio Soprattutto quello privato Con un investimento di 71 miliardi di euro Che ne ha riportati quasi 200 Di investimenti di indotto Di lavoro Di PIL Ben sei punti di PIL percentuale Il grave problema dei crediti incagliati Purtroppo non si potrà risolvere con il contributo Piccolo che la regione potrà dare dal punto di vista economico Ma è un segnale di rispetto Verso tutte quelle famiglie Che si sono trovate per il furore ideologico A trovarsi con degli investimenti fatti Con l'impossibilità di poterli recuperare Questo è il motivo per cui noi votiamo a favore E lo ricordiamo ancora Il super bonus edilizio È stata una misura che l'Unione Europea Intendeva e intende ancora esportare E che come loro stessi hanno detto L'Unione Europea Se fosse continuata Avrebbe potuto generare Una ricaduta economica molto positiva Qualche domanda che sorge spontanea Chi può acquistare i crediti dalle banche Gli enti economici regionali E le società controllate dalla regione Non inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche Che viene aggiornato ogni anno da Istat C'è un rischio di esporsi? L'acquisto potrà avvenire in realtà Solo con la garanzia del prosoluto E a fronte di un accantonamento Ad un apposito fondo di rischio Di almeno il 20% Del valore nominale dei crediti acquistati In questo modo si preservano bilanci Di enti e società Ci sono anche altre limitazioni Sono acquistabili i crediti Che discendono da interventi di super bonus Sisma bonus ed eco bonus Le opere di ristrutturazione edilizia L'ambito territoriale è quello toscano naturalmente C'è un'ampia convergenza Come abbiamo visto Anche con valutazioni iniziali diverse Sulla misura in sede del super bonus Ma un gruppo di opposizione E un gruppo di maggioranza Non partecipano al voto Riteniamo un pannicello caldo E al quanto confuso Noi abbiamo fatto delle domande molto puntuali Per quanto riguarda questa proposta di legge Abbiamo chiesto Quali saranno le società partecipate Della regione toscana Che potranno acquistare i crediti Concretamente non c'è stata data risposta Se non è veramente molto confusa E inoltre abbiamo chiesto Se il fondo Diciamo a garanzia del 20% Sia sufficiente Per garantire la regione toscana Inoltre Parliamo veramente Di poco Di 5 milioni di euro Quindi veramente Un pannicello caldo Riteniamo assurdo Il fatto che con risorse regionali Si debbano andare a garantire Dei crediti che non sono stati In grado di essere riscossi Noi siamo per un mercato libero Dove le imprese si assumono La responsabilità In primis quelle di natura finanziaria E non è corretto Far rischiare Sulle finanze della regione La riscossione di crediti in evasi Ancora più su misure Di bonus Che abbiamo sempre ritenuto inopportuni Da parte dei governi Molto rischioso Per le finanze della regione toscana Assumersi questa responsabilità E come tale Non abbiamo partecipato A questa votazione E quando abbiamo visto Che si tratta di una funzione Di una visione Totalmente assistenzialista Dove abbiamo visto Varie forze politiche Trovare invece Una sintesi trasversale La nostra concezione Riformista e liberale Ci ha portato A essere liberi Di non partecipare A questa votazione E c'è anche Un voto di astensione Pur essendo stato fatto Un'azione di Di sollecito Alla questione Di È stata abbastanza Limata Ogni parola Però a me non mi convince Non mi convince Perché questo super bonus È stato veramente Un pozzo Nel quale È sprofondata L'Italia E conseguentemente Credo Che sia Una cosa Che pagheremo Anche con le generazioni future Per cui Purtroppo Ci sono state Tanti magheggi Tante cose Che non sono andate Al buon fine Tanta gente Se ne è approfittata Il soccorso alpino E spedeologico Diventa organico In qualche modo Alla regione È una nuova legge Votata da tutti Infatti ne riconosce Il ruolo fondamentale Soprattutto In alcune aree Per esempio Leapuana e la Garfagnana Ne stabilizza Il sostegno finanziario annuale Aggiunge la facoltà Anche di utilizzare Le sedi regionali Entusiasti I commenti Dei consiglieri Che rappresentano Le zone montane Maggiormente interessate Adesso che si avvicina L'estate Naturalmente Tutto questo Porrà avere Anche un valore In più Riconosce Il ruolo fondamentale E istituzionalizza Il ruolo del soccorso alpino Che è importantissimo Che è importantissimo In questo particolare momento Dove la montagna Diventa sempre più Una montagna Frequentata da turisti Anche dopo La drammatica vicenda Della pandemia Per una ricerca Di un rapporto Diciamo diverso Con la natura E con l'ambiente E impegna ancora di più Gli uomini e le donne Del soccorso alpino Con questa legge Noi riconosciamo Noi riconosciamo questo ruolo Ne definiamo i compiti E incentiviamo Diciamo Sia gli aspetti Relativi al miglioramento Del servizio Sia quelli che riguardano L'informazione ai cittadini E il tema importantissimo Della prevenzione Mettiamo a disposizione Un budget economico E valorizziamo Il luogo Il luogo Del soccorso alpino In modo che sia riconoscibile Da parte di tutti I toscani E di tutti Coloro che frequentano Le nostre montagne È giusto Che la regione toscana Intervenga Per legge Come oggi abbiamo fatto Per regolare Appunto Il soccorso alpino Intanto ringraziando Le tante donne Tanti uomini Con una capacità incredibile Con una preparazione Oltre la media Che sono a disposizione Appunto Di chi va a giro Per la montagna E poi mettendo Per iscritto Alcune norme Tra queste Io ho chiesto E è stata accettata Tant'è che è diventata Legge Che sono individuati Dei fabbricati Da mettere a disposizione Il soccorso alpino Dove appunto Che possono essere Appunto utilizzati Per Magazzino Per tenere Materiali di intervento Penso a una barella E che possono essere Utilizzati Anche come Il luogo di Sempre aperto Come il luogo di bibacco Semplicemente perché Anche se qualcuno Non è ferito Ma cambia repentinamente Il tempo In montagna può succedere Viene la nebbia Viene il bue Viene l'acquazzone O del vento forte Si possa sapere Che in determinati luoghi Per 365 giorni l'anno Per 24 ore al giorno Comunque c'è Un rifugio C'è un'animità Anche sulla legge Che riguarda I requisiti igienico-sanitari Delle piscine private All'uso collettivo Pubblico Offre ora La possibilità Di svuotarle Ogni tre anni E non più dopo uno soltanto Nessun rischio Per la sicurezza Perché naturalmente Devono essere rispettati Tutti i parametri Di igiene Dopo un lavoro Condiviso in commissione È stato convenuto Che con le attuali tecnologie È possibile attuare Procedure di autocontrollo E mettere in atto Accorgimenti Che consentono La pulizia Delle pareti Delle vasche Anche senza Lo svuotamento totale Perché questo Chiaramente Per salvaguardare Il più possibile La risorsa idrica Ne parleremo Venerdì prossimo Anche con alcune interviste Che abbiamo registrato Approvato anche Stavolta però A maggioranza Il budget economico 2024 di Artea All'agenzia regionale Per le erogazioni In agricoltura Ma lo sappiamo Le sue funzioni Sono molteplici E spazzano anche In altri ambiti Il bilancio Prevede un valore Della produzione Di circa 5 milioni e mezzo C'è stata una doppia polemica A margine Dell'ultima seduta Una riguardava L'aeroporto di Firenze Doveva esserci Un confronto Con i vertici Della società Toscana Aeroporti Ma per l'assenza Del presidente Della giunta C'è stato un rinvio E non è stato il primo Con polemiche Appunto A seguire Era la commissione Che si sarebbe recata Negli uffici Di Toscana Aeroporti Per avere appunto Delle delucidazioni E fare delle domande Al che Due giorni fa C'è arrivata Una mail A parte del presidente Gianni Dove diceva Che questo Impegno Doveva essere Rimandato Annullato E rimandato A data da destinarsi Perché lui Non poteva essere Presente A questo incontro Cosa che nessuno Gli aveva chiesto Sinceramente Perché Tanti atti Abbiamo portato In aula E tante volte Il presidente Gianni Mi aveva anche risposto Sempre sulla questione Dell'aeroporto Della messa in sicurezza Dell'aeroporto Questa era Un'interlocuzione Che la commissione Voleva avere Con gli uffici Con i vertici Di Toscana Aeroporti Non era necessaria La sua presenza Il presidente Gianni Mi ha detto Vorrei partecipare Per ascoltare Cosa dicono E dire anche io La mia Un consigliere regionale Presidente della regione Io non me la sono sentita In maniera irrispettosa Di non accogliere Una richiesta Del presidente Tutto qua Nessuna dietrologia Chi ce la vuol leggere Ce la legga Non è Da parte mia Nessuna intenzione Di rinviarlo Per motivi diversi Dall'accoglimento Di una richiesta Assolutamente legittima L'impegno L'ho scritto Anche nella lettera Che ho mandato Ai consiglieri Di rinvio Mi sentirò In settimana Con i vertici Di Toscana Aeroport Insomma Definiremo una data L'altra questione Riguarda il funzionamento In particolare La segreteria E la questione Del personale Dell'autorità portuale Regionale Il consigliere Baldini Lamenta di non aver Ricevuto risposta Alla sua interrogazione Da parte del presidente Della giunta Adesso si è mosso Anche il presidente Del consiglio regionale Per sollecitare Questa risposta A Torino Al salone del libro Con il treno Dei lettori toscani Che ha registrato Il tutto esaurito Dei 450 posti In 24 ore E 50 biglietti Erano riservati A giovani Da 18 a 30 anni Nell'ambito del progetto Under 30 Di Unicop Firenze Che ha sostenuto L'iniziativa A bordo Questo sabato 11 maggio Tante iniziative Di animazione Di cui abbiamo parlato Anche con i responsabili Gli animatori Diciamo così Nelle scorse settimane Una presenza forte Della Toscana Che nasce anche Dall'impegno costante Della commissione cultura Del consiglio regionale L'editoria toscana Ha una grandissima tradizione E tutt'oggi È un settore Industrialmente Molto vivo Molto brillante Che però Ha bisogno Del supporto Delle istituzioni Quest'anno Per la prima volta Con due bandi Due avvisi successivi Abbiamo finanziato Sia gli editori Che non avranno Un proprio stand E parteciperanno Allo stand Della Toscana E sono 33 In uno stand Triplicato Nelle dimensioni Rispetto al passato Potranno mostrare Il loro lavoro E anche presentarlo Nel piccolo auditorium Che avremo Allo stand Mentre 14 editori Più importanti Che hanno il loro stand E hanno le forze Per prendere Un loro stand Riceveranno Per la prima volta Un contributo E un sostegno Alle spese Da parte della regione La novità Più popolare È il treno Dei lettori 450 lettori toscani Un vagone intero Di under 30 Al salone di Torino Per passare Una giornata Non solo A visitare Lo stand Della Toscana Ma anche A poter Prendere contatto Con le altre realtà E trascorrere Una giornata Dentro il salone All'ingotto Abbiamo detto Del progetto Che riguarda La generazione Z Insomma Gli studenti Le studentesse Delle scuole toscane Ci sono quelli Del Marco Polo Di Cecina Del liceo Carducci Di Viareggio Dell'artistico Artemisia Gentileschi Di Carrara Del Matteotti Di Pisa Dell'alberghiero Martini Di Montecatini E di altre scuole Ancora In tutta la regione L'obiettivo In questo caso Era di guidare La cultura Delle risorse Del territorio Per farne poi Un elaborato Ne riparleremo Così come vedremo Anche le immagini Della trasformazione Del campo da basket Di Migliarino Pisano In un'opera Vera Di street art Per ora Con Regionando È tutto Ci rivediamo Venerdì prossimo 17 maggio Ancora Alle 21.10 Dopo Il nostro Tg della sera Dirataremo Mi Grazie.